concentramento ragazzi concentramento è la nuova serie del canale tutto il nome di mercato concentramento ragazzi la potremmo chiamare in questi due modi questa serie perché ben tornati in questo mio video abbiamo una notizia perché ragazzi questo non è un canale che parla solamente di calcio mercato italiano calcio mercato principale ma io ragazzi parlo anche del calcio mercato dell'estero e qua abbiamo tanti nomi per questa squadra perché si è ad occhiato veramente tantissimo tanto 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 l'arsenal ragazzi perché l'arsenal perché ragazzi mi andavo a fare un video per l'arsenal non so mai quando uscirà questo video e se uscirà nel primo o nel secondo canale ma così ragazzi sono le 20 le 10 e 20 di mercoledì non ho un cacchio da fare ma perché no mettersi a registrare un video io ve lo chiedo voi non registra dei video e fate male ragazzi bentornati con la serie più attesa del web concentramento barra tutti i nomi di mercato questa serie aveva iniziato anno scorso con napoli milan non l'ho portata avanti avevo registrato anche un video che sarebbe dovuto uscire a gennaio ma comunque bentornati con tutti i nomi di mercato la serie che voglio far uscire per tutti ragazzi non dico tutti i club ogni tanto magari un appuntamento ogni due tre settimane con ogni club io inizierei ragazzi proprio a questo arsenal perché abbiamo tanto 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 partendo dal city il city ragazzi non è che sto facendo il concentramento city ma ragazzi city sta vendendo sterling gli ha aperto la porta ma oggettivamente questo city secondo me è veramente una squadra troppo veramente troppo si è deciso di acquistare troppo perché ragazzi questo city in attacco a sterling fote jesus haaland mares bernando silva julian alvarez io ragazzi non so come si faccia a gestire uno spogliatoio del genere perché oggettivamente illegale il giocatore ragazzi andrà in scadenza nel 2023 e sembra esserci l'arsenal alla porta si era portato dell'arsenal si era parlato del tottenham sterling ragazzi negli ultimi due tre anni è veramente tanto calato e fa partire questa stagione perché rischia veramente di finire come delle ali che è diventato un panchinaro fisso che non gioca neanche come subentrato per gli ultimi 25 30 minuti rischia veramente di fare una brutta fine perché oggettivamente sterling per quanto si possa buttare per quanto non mi sia simpatico ma non è un pessimo giocatore sterling è un giocatore che per quanto riguarda seguendo i prezzi di premier league vale 60 milioni per quanto riguarda in italia ne varrebbe 40 35 ma per quanto riguarda il calcio di là dovrebbe avere una sessantina ai milioni per quanto riguarda e andrà in scadenza quindi onda evitare prenderlo in scadenza e si li vuole anticipare tutti e l'arsenal invece non è che vuole anticipare tutto per prendersi i soldi ma invece voglio anticipare le altre concorrenze ovvero tottenham si è parlato anche leggermente di liverpool se non sbaglio e anche forse di celsi se non sbaglio comunque voglio anticipare tutti ancora le cifre e l'offerta non sembra non si sanno però non lo so ragazzi lo vedo un acquisto che è molto reale aiki aiki ragazzi che per me sarà sempre il tierney l'altro tierney io questa aiki ragazzi l'ho adocchiato da fifa e fifa ragazzi coi prospetti devo dire che ci vede bellissimo sembra un affare alla tomiglasu alla tomiglasu ragazzi perché l'arsenal è molto interessato a questo giocatore voglia rimpiazzare nuno mendes voglio ripiazzare nuno mendes che poi cioè ragazzi oggettivamente interzini questo arsenal non è messo neanche malissimo anzi tomiglasu e cedric suare sulla destra tierney e nuno tarwares sulla sinistra che sono veramente nomi nomi ottimi ragazzi nomi ottimi e aiki potrebbe arrivare sembra affare alla tomiglasu dell'anno scorso purtroppo tomiglasu sia infortunato e poi io onestamente anche i ragazzi con tierney formerebbe il duo dei terzini sinistri ottimi io però non vedo ancora aiki pronto per un arsenal che se dovesse fare la champions ma io lo vedrei più pronto magari per un west ham perché no un tottenham e secondo me però potrebbe accusare tanto la concorrenza di un terzino come tierney perché aiki è un giocatore straordinario 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 e comunque arriverebbero pochi soldi c'è 20 milioni e c'è 20 milioni non è poco ragazzi in miglia e il terra quei 20 milioni valgono 10 per per noi non è male e quindi all'ombra di tutto questo nuno mendes potrebbe partire e arrivare a chi non so chi so prenderebbe nuno mendes io onestamente gli dai un'altra opportunità ma forse secondo me anche è sbagliato vendere nuno mendes perché lui forse l'hai comprato un po alla cieca perché gli fai fare a concorrente con tierney però però ragazzi non ha un po senso e secondo me non ha senso prendere un altro terzino e rischia anche di averci nuno nuno me tavares anche per l'anno prossimo passiamo ragazzi al centrocampo al centrocampo perché ragazzi c'è un interesse abbastanza risaputo ormai per ti porti le mans tirano ragazzi tutto su lui centrocampista ex underlecht e attualmente è l'estero potrebbe arrivare oggettivamente ragazzi molto anche per poco 45 milioni e ci sarebbe però anche una concorrenza in real madrid oggettivamente ma io non capisco che cosa se ne faccio a questo real se c'è modric cross casimiro valverde se baglios camavinga cosa se ne fai ti le man vuoi mettere valverde a sinistra bene ti prendi la pezza non so cosa se ne farebbero comunque ciò vedere bene e ti la man prima di fare il grande step per andare in una squadra che si contende il titolo si contende la champions io prima gli consiglierei di andare in una squadra dove ti puoi contendere gli ottavi di champions puoi contenderti vincere l'europa league secondo me questo l'offerta ragazzi sarebbe il 45 milioni per convincere il laser a lasciare ti le man ma ci sarebbe un leggerissimissimo problema ovvero quello della champions league perché se arriva la champions potrebbe arrivare proprio lui l'ipotesi real non è tramontata ma comunque non lo so ragazzi non ne ho la più pala idea e secondo me sarebbe un affarone comunque il torreira ragazzi dovrebbe partire lo sappiamo ormai la fiorentina sta anche cercando di accelerare prima che io rubino torreira dovrebbe partire per riscatto di 15 milioni ultimo nome per il centrocampo ovvero arthur atto ragazzi spuntato questo nominio e spuntato questo nomino perché thomas party potrebbe essere scambiato con proposte su arthur io ragazzi sarei veramente a tirare non so che cosa perché thomas party è un buon giocatore ma non è assolutamente un giocatore al livello e alla classe di arturo e il mio arturo non si tocca ricordatevi queste parole non le tolgo artur non si tocca vuoi fare 20 milioni secondo vale veramente 20 milioni artur non è idea ma comunque si parlerebbe di uno scambio tra thomas party e arthur secondo i valori dovrebbe valere in più parte però non lo so io parte non mi farebbe schifo però però ragazzi non onestamente non mi piacerebbe scambiarlo comunque questo video ragazzi si concluono l'ultima notizia un altro terzino terzino a destra ecco qua perché ragazzi in acqua e morina mi stavo dimenticando potrebbe essere accostato poi l'ultima volta alla juve e all'atletico del cielo è accostato secondo thai si sports ci sarebbe l'interesse dell'arsenal vorrebbero questo giocatore ci sarebbe ragazzi ci sarebbe perché hai però hai già un ottimo giocatore ovvero tomiglaso che ti può fare il totale secondo me cedric suare che un buon panchinaro ci potrebbe però essere un arma in più a favore di questo di questi ragazzi arrivo di in acqua e molina ovvero pablo marì pablo marì ragazzi che non sta facendo assolutamente male al all'udinese potrebbe partire per far arrivare in molina proprio al all'arsenal potrebbe essere questo scambio più ovviamente un conguaglio economico perché se no ragazzi sarebbe molto stupido ma comunque ci potrebbe essere questa questa opportunità comunque io signori vi saluto veramente ci vediamo con un altro episodio di questa serie ragazzi di tutti i nomi di mercato abbiamo iniziato adesso qua però con l'arsenal però continueremo anche con l'altro che dire ciao e sputto in faccia